Ma cosa ci sta in questa valigia? Mi gira la testa! Oddio, un terremoto! Cosa? Finalmente libero! Un barbone! Dammi la chiave! Ehi, devi pagare! Ecco, questo è tutto quello che ho! Va bene, ecco la tua camera! Vai, vai! Oh, grazie! È ora del massaggio! Scusami tanto! Deve aspettare! Aia, deve fare male! Il mio famoso massaggio Kung Fu! Voglio qualcosa di sofisticato! Tieni! Beh, come desidera! Ecco! Sbrigati! Resti ferma! L'oro caldo sta arrivando! Che bella sensazione! È così rilassante! Questo slime d'oro renderà la sua pelle davvero liscia! Applichiamo e togliamo! Che bella pelle! Addio, slime! Grazie, mio caro! Prego, tesoro! Ciao! Ciao! È così bella! Ho bisogno anch'io di un massaggio! Tu? Aha! Beh, non lo so! Sempre così povero! Va bene, sdraiati! Ehi! Pronto? Oh, ho finito! Ciao! Un massaggio da urlo! Oh, eccola di nuovo! La mia principessa! Che sciocco! Ecco il menu, signorine! Prendo questo, questo e questo! Ok, sono 105.000 euro, pagherai in contanti? Sì, puoi tenere il resto! Wow, grazie, signorine! Che ci fa qui? Oh, cameriere! Sono pronto per ordinare! Ecco il suo menu, signore! Ok, fammi vedere! Cosa voglio? Così costoso! Aha! Prenderò dell'acqua! È un hamburger! Aspetta! Tieni il resto! Un piccolo hamburger, sì! Che scemo! Il vostro cibo sarà pronto tra un momento! Ecco! Beh, sembra ok! Oh no, qual è? Beh, fa niente! Sono qui! Ecco il suo ordine! Grazie! Sto morendo di fame! Wow, non me l'aspettavo! Wow! Sto morendo di fame! Oh, un hamburger! Grazie! Ma com'è piccolo! E delle mini patatine! Delizioso! Quanta roba! Ho finito! Cos'è questo rumore? Il mio stomaco sta brontolando! Oh, ho ancora fame! Oh, poverina! Ehi, è per te! Oh, che bello hamburger! Qualsiasi cosa per te! Oh, io adoro mangiare gli hamburger! Oh, grazie! Devo andare! Ehi, aspetta! Che bella giornata! Voglio prendere il sole! E rilassarmi! E rilassarmi! Gelato! Gelato! Salve, signorina! Oh, salve! Oh, che caldo! Oh, che puzza! Oh, è ora di rilassarsi! Accidenti, è qui! Si può fare! Dopo tutto, devo proteggermi dai dannosi raggi UV! Una ragazza deve sempre essere al top! Sono la migliore STF per la mia periziosa pelle! Oh, che caldo che fa! Devo essere abbronzata per i miei ril su Instagram! Anch'io ho bisogno della crema solare! Ma come la ottengo? Oh, questa andrà bene! C'è scritto maionese! Ma ci assomiglia tanto, vero? Vedi? È identica! Ora la stenderò per bene! Guarda un po'! Ehi, vuoi vedere un trucco? Un trucco, certo! Oh, ma stai bene? Sta bene, sta bene! Oh, bene! È ora di riapplicare la mia crema solare! Proteggere la pelle è un duro lavoro! Questa crema solare ha un odore strano! Aspetta, ma è maionese? Cosa? Oh, che schifo! Senti che buon odore! Sarà virale! Non credo proprio! Facciamolo! No! Oh, non si preoccupi, signorina! Ho un'idea! Guardi! Che ci vuoi fare? Guardi! Ora le toglierò la maionese! E aggiungerò dell'affettato! Guarda che bel palino! Sei pazzo! Che buon odore! Fammi assaggiare! Che ti guardi! Niente! Addio! Assaggia un po'! Buon appetito! È così carino, ma così povero! Mi servono dei gadget! Maggiordomo? Oh, mi sta chiamando! Arrivo subito, signorina! Sto arrivando! Mi manca così tanto! Ci vediamo presto, bella ragazza! Sto morrendo di fame! Devo mangiare qualcosa! Ma qui non c'è nulla! Sono qui! Sono qui! Le sue palline di cioccolato, signorina! Grazie! Prego, signorina! Oh, ecco a te! Oh, ma è così povero! È troppo triste! Prendi pure! L'apprezzo molto, signorina! Non devo più pensare a lui! Wow! Non si spreca niente! Ho preso tutto! Corri dietro il loro è davvero faticoso! Tutto preso! Sono così triste per lui! Devo vedere come sta! Starà fuori al freddo! Oh, eccolo lì! Sei così prezioso! Sarà la mia cena! È così gentile e affettuoso! E gli piacciono anche gli animali! Ma sei innamorata o cosa? Di nuovo? La vita è così difficile! Ho bisogno di un drink! Oh, certo, signorina! Qualsiasi cosa, fin tanto che paga! Il suo drink sarà pronto in un attimo! Apra la porta, signorina! Che c'è? Il suo drink è pronto, signorina! Alla salute! Oh, grazie! Devo scrivergli! Un ultimo sorso per prendere coraggio! Dove posso scrivere? Oh, scriverò su qualcosa di utile! Ok! Eh, sì! Creerò un aeroplanino e... Aereo in arrivo? Devo mirare per bene! Ottima cena! È già! Oh! No! Oh, mi stavo dimenticando! Ehi, amico! La tua cena! Gustosa, eh? Oh, meno male! Vado! Un aeroplanino? C'è un messaggio! Certo che ci andrò con te, mia principessa! Un sogno che diventa realtà! Tra poco starò con lei! Non ti muovere! Molto sospetto! Sembri povero! È sporco! Sono stato invitato, signore! Fammi vedere! Vattene! Non puoi ingannarmi con quell'invito falso! Wow! Uh! Accidenti! È così che si festeggia! Evviva! Io entro! Forza, vattene! Stupida mosca! Ho detto fuori! Va bene! Va bene! Ehi! Entra pure! Grazie! Non funziona, amico! Au! Au! Non puoi entrare! Va bene, come vuoi! Devo trovare un modo per entrare! Oh, lo so! Dovrebbe funzionare! Proviamoci! Dov'è? È quasi mezzanotte! Ancora tu! Oh, ma per favore! Vedi questi? Li vuoi, eh? Beh, ovviamente! Non c'è di che! Finalmente sono dentro! Oh, eccola lì! Oh, è stupenda! Ehi, DJ! Che noia! La prossima traccia è per te! Oh, sei così! Sei qui! Ciao, tesoro! Ciao! Balleresti con me? Sì! Vorrei avere una suite di lusso, per favore! Oh, vediamo! Mi dispiace, i suoi soldi sono falsi! Cosa? Quel barbone mi ha ingannato! Questa bolla è enorme! Oh, ma è fantastico! Altre bolle! Ancora! Ah, che figata! Mamma! Quella è la mia bolla! Mamma! Dov'è andata? È tornata! Come si sta bene! Godiamoci questa giornata! Ti voglio bene, mamma! Sta davvero dormendo? È ora di giocare! Com'è fredda! No! Signorina, aspetta un attimo! Indossa questa! Mamma! Mi hai colpita in faccia! Ma cos'è questo coso? Non credo vada così! Ci sono! Aiuto i miei occhi! Ok, non so proprio cosa farci! Su, forza! Ci sono quasi! No! Mamma, fai attenzione! Luna! Devo fare tutto io! Il trucco è riempirla d'acqua! Poi si mette in testa! Liscio come l'olio! Ecco che arriva! Vedi? Forte! Le mamme hanno una marcia in più! Perfetto! Mamma, questo posto è così bello! Luna? No! I tuoi piedi sono pieni di sabbia! Ti prego! Beh, direi che ormai è troppo tardi! Aspetta un attimo! Ho qualcuna lenzuola! Una volta bloccati tutti gli angoli... Bisogna pulire i piedi nell'acqua! E poi sedersi e bere qualcosa di fresco! Grazie a questo trucchetto non ci sarà più nemmeno un granello di sabbia! Grazie, mamma! Alla salute, tesoro! Credo che la mia sia bloccata! Una no! Sono completamente bagnata! Colpa mia! Puoi dirlo forte! Mamma, non ci crederai mai! La sabbia brucia! Devo fare qualcosa! Ecco, molto meglio! Oh, accidenti! Piano, piano! Oh! Stupidi bicchiere di plastica! Mamma! Sciocchina! Mettiti queste! Si attaccano direttamente al piede! Ora non ti bruceranno più! Grazie, mamma! Finalmente posso rilassarmi! Oh, sì! Ciao, mamma! Oddio, mamma! Si possono mettere anche sulle mani! Ci vediamo! Oh, la mia roba! Non posso lasciarla incustodita! No, non pensarci nemmeno! Sono ancora qui, vedi? Devo trovare una soluzione! Non c'è niente di prezioso qui! Devo nascondere i soldi! Ce ne sono degli altri! Che bel nascondiglio! E ora gli spiccioli! Forza! Forza! Ecco, sapevo di averne! Che strana signora! Guarda quanto vuoi! Non troverai nulla di prezioso! Manca qualcosa! Un castello, magari! Acqua, sto arrivando! Interessante! Ora sì che mi sono rinfrescata! Ehi! Luna, stai rovinando tutto! Mamma! Guarda cosa ho fatto! Eh, sì, qualcosa lo hai fatto! Ok! È ora di giocare a qualcos'altro! Evviva! Aspetta! Dov'è il mio costume da bagno? Ehi! Cerchi questo! Cosa sta succedendo? Luna! Quel tizio si crede di essere divertente? Aiuto! Squalo! Squalo! Che ride adesso? Ma come hai fatto? Prendi! Il mio costume da bagno! Cosa per il mio tesoro? Mamma! Ci sei? Ah, la mamma sta dormendo! Dov'è il bagno? Non posso più resistere! Eh? Oh no! 16 chilometri! Non posso camminare così tanto! Posso usare il nostro filigo portatile! Lo metterò qui e lo svuoterò! Eh, sì! Era proprio urgente! Wow! Dovevo proprio andare! Così fatto! Eh, bene! C'è mancato poco! Fio! Dovremmo andare in spiaggia più spesso, mamma! Ehi! Fermati! Per prima cosa dobbiamo pulirti! Niente sabbia in casa! Ci sei? Dov'è l'acqua? Credo che il vicino si stia facendo la doccia! Ok, sono pronta, mamma! Facciamolo! Si crede di poter rubare tutta l'acqua, eh? Ma che? La vicina vuole fregarmi l'acqua, eh? Lei darò un po' d'acqua! Ma quella del water! Stronzaci, sì! Ecco che arriva! Ok, sì, l'assento! Ci siamo? Ecco che arriva! Sì! Mamma, funziona! Oh, wow! Lasciane un po' pure a me! Com'è rinfrescante! Fresca e pulita! È enorme! Luna, che fai? Il mio gelato è rovinato! Va tutto bene! Calmati! Guarda cos'ho per te! Degli M&M's! Non li voglio! Devo stare calma! Ok, va bene! Vuoi qualcosa di più sofisticato, eh? Ce l'avrai! Ora sono tutti schiacciati! Molto bene! Ottimo lavoro! E... Tagliuzziamo! Forza! La mamma è più forte di quanto pensassi! Non preoccuparti, ti farò qualcosa di gustoso! Vedi questi? Basta aggiungerci del latte e poi un bastoncino di legno! E poi basta metterlo nel congelatore! Ci vediamo tra un po'! Tra quattro ore, per l'esattezza! Vedi? Il tuo dolcetto è pronto! Una barretta gelato fatta in casa! Oh, sì! Sono la mamma migliore o cosa? Wow! Aspetta! Ecco i tuoi cereali preferiti! E il latte! Mamma no! Sul serio? Mamma no! Ma certo, so cosa fare! Tanto vale andare direttamente alla fonte! In questo modo lo apprezzerà di più! Ecco fatto! Ci sono! E' ora di mungere la mucca! Piano! Ce n'è abbastanza per la tua colazione! Vedi? Wow! Posso provare! Oh, com'è buono questo latte! Ancora, ancora! Wow, freschissimo! Sono geniale o cosa? Divertiti, tesoro! Ciao, mamma! Sono a casa! Ciao! Luna! La tua mano! Ecco un gadget salva dita! Ecco fatto! A prova di schiacciamento! Dita intatte e sono dita felici! Ah! Wow! Che bello! Ehi! Cosa ha il frigo che non va? È rotto? Cosa ci fa qui il gadget salva dita? Ciao, mamma! Così non ti schiacci le dita! Aspetta! Sto arrivando! Oh! Oh, fa troppo caldo! Oh, se solo avessi soldi per delle scarpe! Signorina! Ecco il suo tappeto rosso! Oh! Finalmente! Perché ti c'è avuto così tanto tempo? Oh! Ma io voglio nuotare! Bene! Andiamo! Oh! 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 Non si preoccupi, signorina! Questi! Oh! 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 Come osa! Alfredo, aiutami! Non si preoccupi, signorina! Adesso! Ah! Finalmente un po' di fresco! Oh! Ops! Oh! Sembra che l'acqua sia diventata più calda! Va meglio! Ottimo lavoro! Aspetti! Intendo... Prego, signorina! Che bella giornata! Oh! Aspetta! Cosa sta succedendo? Chi è quel vecchio? E perché sta guardando la mia roba? Ehi! Oh! Un ladro! Devo proteggerla! Non ruberai le mie cose, tu sporco ladro! Pesso di aver sentito qualcuno nelle vicinanze! Oh! Fa niente! Sarà meglio che vada a casa! Bene! Mettiamo tutto nella busta! Provate a rubare la mia roba ora! Ehi! Wow! È più pesante di quanto pensassi! Aiuto! Oh! Chris! Oh! Il mio eroe! Stai bene? Oh! È lui! Con lei? Oh! Bene! Ora sarò io la damigella in pericolo! Aiuto! Aiuto! Aiuto, per favore! Sto annegando! Sto annegando, signorina! Oh! 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 Con l'aiuto di Chris! Chris è la rock star! Ma sono in paradiso! Svegliati, ragazza! Oh! Sei tu! Vai al diavolo! Ciao, Chris! Mi ha salvato lui per prima! Io gli piaccio! No! Io! Io vado a mutare! Aspetta! Dove è andato? Chris! È colpa tua! Va bene, è meglio che nasconda le mie cose ora! Meglio! E... Sì! Fatto! Ora nessuno le ruberà! Ah! Tu! Non puoi rubare il mio Chris! Proviamo la mia nuova... Incredibile crema solare! E ora lascerò un piccolo messaggio! Così va bene! Oh! Cosa mi è successo? Oh! Oh no! Guardati! È stata lei! Alfred, dammi la mia fantastica e costosa crema solare! Signorina! Sento le sue incredibili qualità! Ma... Eul! Perché puzza così tanto? È una crema curativa! Te lo sei meritato! Controlliamo cosa c'è di nuovo! Cosa è di tendenza ora? Il super famoso rocker Chris è scomparso oggi dalla spiaggia vicino al mare! I fan sono preoccupati per il loro cantante preferito! Semplicemente non capiamo dove possa essere andato! Il super famoso rocker Chris è scomparso! Oh! 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 Ho bisogno di andare in bagno! Aspetta! Oh! Niente carte igieniche! Oh! Oh! Questo andrà bene! Va bene! Andiamo! Finalmente! Ah! Leggerò le notizie! Oh! Chris è scomparso! Che cosa? Oh! Devo trovarlo! Andiamo! Oh! Aspetta! Oh! Giusto! Adesso andiamo! Ti salverò, Chris! Oh no! Come è potuto succedere? Chris, dove sei? Ciao, ragazzi! Quindi, come sapete, la nostra rock star preferita, Chris, è scomparso! Quindi andremo a... Alfred! Ripara le luci adesso! Mi dispiace, signorina! Devo creare un piano! Va bene, vediamo! Oh, io lo so! Aia! Oh! Au! Ouch! Aspetta! Ma è perfetto! Dai, per favore! Patatine classiche! Finalmente! Andiamo! Fa troppo caldo! Vado a nuotare per un po'! Certo, signorina! Stia attenta! Chris, sto venendo per te! Ho sonno! Oh, è stata una cattiva idea! Morirò! Oh! Aspetta! Cos'è questo posto? Oh! Che cosa? Dove sono? Aiuto! C'è qualcuno! Aiuto! Stupida spiaggia! Dove sono? Oh! Quello è Chris! Oh! Sta correndo verso di me! Guardalo! È così affascinante! Oh! E l'ho trovato! Chris! Abbraccia, mi amore della mia vita! Finalmente! Sono salvo! Tornerò a casa! Aspetta, aspetta, aspetta! Dobbiamo lanciare un segnale! Forza! Oh! Oh! No! No, no, no! Cosa stai facendo, Chris? Dammela! Eh? Oh! Cosa hai fatto? Grande! Oh! Aspetta, dove stai andando? Chris, mi dispiace! Scusami! Mi stai ascoltando! Chris! Chris! Guardati intorno! Siamo su un'isola deserta! Moriremo qui! Oh! Morire? Sì, certo! Sono sopravvissuta a situazioni peggiori! Allora, cosa facciamo? Fammi pensare! Oh! Tu accendi un fuoco e io ti porto del cibo! Un fuoco? Cosa? Dov'è il cibo? Aspetta! È ciò che penso che sia! Finalmente un po' di cibo! Devo trovare Chris! Oh! E questi sono... Oh! Non sono velenosi! Devo prenderli! Chris sarà così felice! Oh! E cos'è quest'albero? Eh, proviamo! Oh! Oh! Forza! Forza! Oh! Oh! Wow! La mia testa! Oh! 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 Le noci di cocco! E altro cibo! Chris! Chris! Oh! Sei tornata! Guarda! Ho trovato della... Aspetta un attimo! Non ti avevo detto di accendere un fuoco? Sì? Sei così bella oggi! Oh! Veramente? Sì, i crinocchi sono... Molto... Molto... Aiuto! Qualcuno aiuto, per favore! Aiutatemi, per favore! Dove sono? Oh! Ehi! Chris, sei tu! Stai bene? Sto meglio, ora! Vuoi dell'acqua? Sì, per favore! Ruby! Porta qui un po' d'acqua! Ok! Ti porterò l'acqua migliore! Sì! Eccoti qui! Oh, grazie! Grazie! Brindiamo al nostro ritorno a casa! Sono felice che ti piaccia! Oh, era così buona! Sì, beh... Qualcosa non va! Oh, che figura, ragazza! Controlla i tuoi denti! C... Cosa mi hai fatto? Nessun problema, le faccio vedere io! Mi vendicherò, Ruby! Spero ti piacciono le formiche! Lascia che ti serva da bere, Chris! Vediamo cosa fa! Mai! Potresti portarci dell'altra acqua di cocco? Non succederà mai! Sì, come vuoi! Che... Che cos'è? Ciao! Oh, ehi, che succede? Maia! 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 Siete entrambe bellissime oggi, ragazzi! Sì! Devo andare in bagno! Dov'è il bagno? Ehm... È lì! È proprio laggiù! Nella foresta! Laggiù? Sì! Non è troppo lontano? No, va bene! Vai, vai, vai! Ok! Non ce la faccio più! Non si preoccupi, signorina! La salverò io! Ma devo fare pipì! Non c'è nessuno, quindi... Oh, no! Per favore, no! Chi c'è? Fatti vedere! Oh, eccola qua! Alfred! Oh, è proprio lei! Oh, che sognavo! L'ho trovata! Ma da dove arrivi? Da laggiù! Vengo dalla città! Pensavo fossimo su un'isola deserta! No, andiamo a casa! Oh! Aspetta, aspetta, aspetta! E poi? Ok, faccio subito! Ed è così che ho salvato la regina! Oh, sei così coraggiosa! Ehi, Chris, guarda questo! Wow! È stupefacente! Come hai fatto? Oh! Cosa? Da dove l'ho preso? Devo fare qualcosa! Ehi! Sì, ce la puoi fare, Ruby! Esatto! Dai un'occhiata, Chris! Pescare è facilissimo! Dai un'occhiata, Chris! Guarda quanto è grande! Ti mostro io come si pesca! Alfred, fai quello che sai fare! Oh, è così pesante! Accidenti! Wow, sei bravissima a pescare! Guarda cosa ho catturato, Chris! Oh! Wow, è ancora più grande! Ma qui non ci sono pesci così grandi! So che sta barando! Fammi provare! Oh! Ahia! Oh! Dov'è Maya? È andata a prendere della frutta? Oh! Frutta, eh? Andrò ad aiutarla! Forza, forza! Devo finire prima che qualcuno se ne accorga! Lo sapevo, sta barando Perfetto, alla prossima Maya, scoprirò cosa stai nascondendo Vediamo Che diavolo è questo posto? Perché è tutto... Cosa? Altra frutta, signorina? Ecco qua Com'è possibile? Chi sei tu? Dove siamo? Sei un'amica di Maya? Io, Mai Allora chi sei? Adesso tu mi racconti cosa sta succedendo Non lo so, mi dispiace Sono venuto qui solo per portare della frutta Lo dirò a Chris Non sapevo avessi degli occhi così adorabili Chris, allontanati da lui Cosa? Ha mentito tutto il tempo, non siamo su un'isola deserta Non ho mentito, perché dici così? Io non sto mentendo Ti faccio vedere, andiamo Aspettatemi Dove sei stato, Chris? Raccontaci cosa ti è successo, per favore Rilasciaci un'intervista Oh, è stato così difficile Ho dovuto uccidere i tigri Dio mio Combattere gli squali Trovare cibo Sapete com'è? E quelle ragazze mi hanno bloccato qui Notizie scottanti Due ragazze hanno picchiato Chris No, rimpiagiamo E ci vediamo al prossimo episodio Così tante lozioni, questa qui Che bel pisolino Brucia! La protezione solare! Casa? È vuota! È il mio pranzo, ma fa niente Questo yogurt mi aiuterà Ah, molto meglio Buon appetito Ok, lo sistemo Quest'acqua è così calda Ma conosco un'acca utile Ah, sì! Ehi! Scusa Un'altra volta Fresca È ora di medicare Sì! Despera Ehi! Scusa Guardia! Agente, abbiamo un problema Ricevuto Porto subito il gelato Gelato, gelato Gelato, gelato Gelato Tre ore dopo Dio mio! E questa è la mia voce Oh, no, no, no Mi vendicherò Una bottiglia? Che cos'è? Presa Ma dove sono? Oh, mio Dio Cos'è la mia voce? Meno male Come sul telefono In un sacchetto di plastica Che cosa? Nessun segnale? Che cos'è la mia? Non è stata una buona idea! Oh mio Dio! Cos'è stato? Oh, sei tu? Guardi! Portatemi la mia sedia! Dove sono tutti quanti? È solo la mia pancia! Ho fame! Penso sia uno degli animali selvatici che ci mangeranno! Oh mio Dio! Fermati! Dove l'hai trovata? Beh, sono salito sull'albero più alto per prendertela! Sono veramente coraggioso! Sì, beh, sono io! Sta diventando freddo! Forse ti serve questo? Su, serio? Che c'è? Li porto sempre con me! Ah, fa caldo! Devo trovare un modo per andare via! Poveri delfini! Ci sono così tante bottiglie! Wow! Ha funzionato! È ora di tornare indietro! Andiamo! Non ne posso più! Sono a casa! È bello essere a casa! E voglio un gelato! Guardia! Portamene un altro! Per favore! Grazie! Ma era una mappa! Forse è una nuova avventura per noi! Adesso è mia! Guardia! Guardia! ?